Ciao a tutti ragazzi da Zebra! Allora, parliamo di Juventus-Bologna. Ritorniamo a parlare di Juventus-Bologna, delle considerazioni generali. Prima di tutto, ti iscrivi al canale, iscriviti al canale, iscriviti al canale. Dai ragazzi, non vi costa nulla, basta premere un tasto, iscriviti. Allora ragazzi, come ho scritto ieri, nel video ieri sera, non ci montiamo la testa. Perché, come ho detto, bisogna essere sinceri. La Juventus, ieri, ha incontrato una squadra letteralmente inesistente. Ragazzi, inesistente, una squadra inesistente. Dobbiamo essere sinceri. C'è anche da dire che ho visto uno spirito diverso, più grinta, più pressing, alto. I due attaccanti, soprattutto Milik e Vlaovic, assadarati. Quindi questo stop con le nazionali è servito, è servito tanto, secondo me. Ma bisogna anche dire, dall'altro canto, che, come ho detto, il Bologna era inesistente. Il Bologna non è proprio venuto a Torino. Il Bologna non è proprio venuto a Torino. Il Bologna è già partito perdente. Quindi, dare una valutazione su una squadra come la Juventus, che doveva dare una risposta e l'ha data, ma con un Bologna del genere, sinceramente, rimango sulle mie posizioni. Rimango col mio punto interrogativo, ma grosso quanto un grattacielo, perché voglio vederla adesso in Champions e soprattutto sabato alle 6, alle 18, con il Milan. Lì si capisce se la Juventus effettivamente sta uscendo dalla crisi. Lì mi deve dimostrare allegri di aver ripreso una squadra in mano. No col Bologna, ragazzi. Questo 3-0 col Bologna non mi dice nulla. Ma non perché devo essere critico o perché devo fare i video. No, ragazzi. Io sono onesto. Ve lo ho già detto, io mi sono presentato come una persona onesta. E l'onestà è la cosa più bella. Poi lo sfottò al Milan, ma ci sta, fa parte del gioco. Però bisogna dire che questa squadra adesso sì che ha vinto, ma non mi ha dimostrato nulla. Perché, ripeto, con il Bologna di ieri avrebbe vinto chiunque. Io sono convinto che avrebbe vinto chiunque. Chiunque. Poi, dopo questa parentesi, quindi la Juventus dovrà ancora dimostrare, non ha dimostrato nulla. Un'altra cosa. Milik. Alcuni mi hanno criticato. Eh, è zoppo. Eh, non vale un centesimo. Ma non vale a niente. E io, da quando è stato comprato. Certo, è comprato. Preso in prestito. Ho sempre detto di Milik, di una cosa ho paura. Delle sue condizioni fisiche. Dopo due crociati rotti. Sai com'è. Però non ho mai messo in discussione, mai, dico mai, andate a vedere i video. Ce l'ho, ci sono dei video. Non ho mai messo in discussione le qualità tecniche e anche e soprattutto quelle per dare a segnare. come attaccante, vero numero nove. Un vero numero nove. Mai messo in dubbio. Perché lui l'ha dimostrato quando era al top. Al top. Al Napoli. Che segnava in tutti i modi. Ragazzi, in tutti i modi. E non gol banali. E adesso, e adesso, una dei chiediti di scusa. Un gol a partita. Un gol a partita. Quel gol con la Salernitana è stato annullato. Ma era valido. Era gol, ragazzi. Un gol a partita. Questo sta facendo. Un gol a partita. Ditemi voi, se questo è scarso, è uno che sale, prende la palla, fa salire la squadra, gioca per la squadra e segna. Ditemi, che cosa volete di più da questo calciatore? Cosa deve dimostrare di più questo calciatore? Cosa deve dimostrare di più? Secondo me, non ha nulla da dimostrare. E nulla da dare in più. Perché è quello che ci mette l'anima. È quello che ci mette la tecnica. Il fisico, tutto ci mette nel campo. E puntualizzazione. Io spero di vedere un Vlaovic che ho visto negli ultimi quarto d'ora, compreso il gol. E non un Vlaovic che si lamenta e basta. O nervosito, comincia a sbuffare, comincia a strattonare, comincia a arrabbiarsi. Non serve a niente. Perché vi ricordo che Oland, sì, sto toccando Oland. Le prime partite che faceva con il City. A Stenti toccava un pallone. E non faceva così. Correva e si metteva a disposizione della mister e soprattutto della squadra. È questo che deve imparare Vlaovic. Zitti. Lì bisogna dire zitti e lavorare. In quel caso bisogna dire zitti e lavorare. Mettersi e sacrificarsi per la squadra. Nessuno. Poi se ci sono delle difficoltà, come noi sappiamo, sappiamo da chi pretengo. Da quella capra d'allenatore che abbiamo noi. Però non ci mettere anche del tuo. Non ci mettere anche del tuo. Non portare instabilità all'interno dello spogliatorio. Devi lottare come fa Milik. Io voglio vedere quel Vlaovic che ho visto negli ultimi 15-20 minuti. Quel Vlaovic. Che ha portato poi al gol. La caparbietà. Allegri non lo nomino. Perché Allegri adesso è innominabile ancora. Non mi ha dimostrato nulla. E per una Juventus che ho visto nei primi 30-35 minuti. Era la falsa Juventus che abbiamo visto le altre volte. Con un'unica cosa in più. Il pressing. Ma ripeto, con una squadra che era già partita perdente. Questa per me era una partita da vincere. Punto. Punto. La potevi vincere pure camminando. Non è discreso contro il Bologna, ragazzi. Se mi ascolta qualcuno di Bologna. Se qualcuno di Bologna è qui. Non per offendere Bologna. Ma è sotto gli occhi di tutti. Che Bologna è venuto già perdente. Infatti sto criticando la Juve. Non è che è brava Juve. No. Non è stata capace la Juve. È il Bologna che non c'era sul terreno di gioco. Quindi ragazzi. Forza Juve sempre. Iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie.